Arriveranno anche all'ospedale di Sciacca diversi medici specializzanti a seguito della recente sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'ASPE di Agrigento e l'Università degli Studi di Palermo. Potranno perfezionare la loro formazione al Giovanni Paolo II interagendo con il personale di reparto e contribuendo ad elevare la qualità e quantità delle prestazioni erogate. Sono giovani medici specializzanti in malattie dell'apparato digerente. Secondo quanto previsto dalla convenzione siglata dal commissario Mario Zappia e dal presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Palermo, Marcello Ciaccio, a Sciacca, come già all'ospedale di Agrigento, utilizzeranno gli spazi, le attrezzature e le risorse strumentali del nosocomio. Durante le attività in reparto i medici specializzanti assumeranno responsabilità via via crescenti con particolare riguardo all'ultimo anno di corso accademico derivanti dalle competenze acquisite e certificate dal tutor didattico. Se da un lato l'Ateneo di Palermo potrà contare su spazi e risorse extrauniversitari utili a formare sul campo la professionalità dei prossimi medici in malattie dell'apparato digerente, dall'altro l'Aspe di Agrigento potrà fare affidamento sugli specializzanti per incrementare ulteriormente i servizi resi all'utenza. A proposito di sanità agrigentina, è stato impiantato per la prima volta all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento un microinfusore di insulina ad un piccolo paciente affetto da diabete giovanile. Lo strumento terapeutico, una tecnologia considerata golden standard per l'appropriatezza dei trattamenti, è stato collocato sotto cute al bambino presso la unità semplice di diabetologia pediatrica, annessa all'unità operativa di pediatria diretta dal dottore Giuseppe Gramaglia, grazie all'avvio dell'innovativo progetto per l'uso dei microinfusori avviato dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale. La micropompa di insulina è stata impiantata dalle dottoresse Piera Buscarino e Claudia Albino ad un paciente seguito sin dall'inizio della malattia presso il reparto. Tramite un cateterino sottopelle, il presidio medico eroga in infusione continua la terapia necessaria al paciente, programmata secondo le sue necessità individuali o per correggere eventuali iperglicemie derivanti da situazioni non correlabili all'assunzione dei carboidrati. Il microinfusore, nell'espletamento della sua funzione, tenta di riprodurre la normale fisiologica secrezione insulinica da parte del pancreas, permettendo di mantenere il paziente in condizioni di stabilità glicemica, tali da prevenire le complicanze, sia acute che croniche, legate alla variabilità dei valori. Il risultato è quello di ottenere una maggiore flessibilità nella programmazione dei passi e degli spuntini, migliorando il controllo glicemico durante lo svolgimento dell'attività sportiva, nelle ore notturne e anche nella gestione di iperglicemie dovuta ad eventi stressanti. Grazie. Grazie.